La frana del Ruinona proda in consiglio regionale. Viviana Beccalossi, già vicepresidente della regione e fino al 2018 assessore al territorio e alla difesa del suolo, oggi esponente del gruppo misto Alpirellone, ha presentato un'interrogazione urgente nella quale chiede all'assessore competente di relazionare sulla situazione relativa ai gravi disagi che ancora insistono sul territorio della Val Furva, sia sotto l'aspetto degli interventi urgenti resisi necessari a seguito degli ultimi avvenimenti franosi, sia per le opere maggiormente strutturali previste già negli anni scorsi per mitigare o risolvere i problemi relativi alla frana del Ruinon. La frana rappresenta ormai da troppi anni un serio problema per l'intera valle, scrive Beccalossi. Oltre agli aspetti legati alla sicurezza del territorio, degli abitanti e delle infrastrutture, il dissesto arreca seri danni economici alle attività turistiche, ma condiziona anche aspetti della vita quotidiana dei cittadini come il lavoro, la libertà di movimento, l'assistenza sanitaria e presto anche la scuola. Per la risposta in aula si attende ora la convocazione della prima seduta post vacanze del Consiglio regionale.